amici e amiche di bpm power oggi mi rivolgo in particolare a tutte quelle persone che in questo periodo stanno lavorando in smart working le call di certo non mancheranno e per questo motivo oggi parliamo della webcam conference camp connect di logitech vediamola subito insieme progettata per piccoli spazi o uffici domestici la logitech connect e compatta e mobile con un ingombro di soli 75 millimetri connect può essere utilizzata praticamente ovunque non vanta poi soltanto un design straordinario ma anche una semplicità di utilizzo che consente a chiunque di utilizzarla e configurarla pensata per essere collocata sui tavoli nei piccoli spazi questa soluzione per videoconferenze offre un ampio campo visivo diagonale di 90 gradi con panoramica e inclinazione zoom 4 per e ottiche nitide la risoluzione è full hd il telecomando portatile e magnetico ed è stato progettato per garantire una portabilità semplice e per lo più per non smarrirlo si trasforma in un copro obiettivo proprio in questo modo che bello inoltre protegge così la lente da polvere graffi e fornisce un livello aggiuntivo di privacy il telecomando è batteria cr20 32 che è inclusa logitech connect è dotata di un obiettivo in vetro premium che garantisce la massima nitidezza grazie alla tecnologia right light 2 è possibile godere di un video luminoso e nitido con una resa di colore precisa e grande livello di dettaglio anche con lo zoom attivato e in condizioni di illuminazione variabili e persino con luce scarsa connect è dotata di due microfoni omni direzionali a banda larga con raggio d'azione di ben 3,6 metri insomma prenderebbe tutta la stanza questa super webcam offre una connessione usb plug and play per tutti i computer windows dal 7 al 10 e mac con mac os x 10.7 o successivo è certificato per essere compatibile con google meet zoom foos skype for business sisco jabber e webex e offre un'integrazione avanzata con software tipo blue jeans broad soft life site clouds video e altre applicazioni dedicate esclusivamente alla videoconferenza registrazione e trasmissione che supportano ovviamente tutte le videocamere usb il cavo incluso è da un metro e ottanta infine l'alimentazione progettata per una portabilità pratica connect è usata in una batteria interna ricaricabile che garantisce fino a tre ore di videochiamata e fino a 15 ore di chiamate audio in alternativa è possibile alimentare la nostra super webcam con l'alimentatore ci ha incluso grazie alle spine internazionali intercambiabili anch'esse incluse potete alimentare caricare la vostra webcam in qualsiasi parte del globo fantastico logitech hai pensato veramente a tutto potete trovare la webcam conference camp connect di logitech sul nostro sito bpm power.com cliccando sul link riportato qui in basso se non lo avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale youtube mettere mi piace alla pagina facebook e a seguirci su instagram vi ringrazio ancora una volta buone videoconferenze a tutti e ciao